Con Simone Resta, Chief Designer di Scuderia Ferrari, parliamo del prossimo Gran Premio a Sakhir e in Bahrain, una pista che di solito viene connotata con due parole, accelerazione e frenata, ma è davvero così? Bahrain è un tracciato molto impegnativo fondamentalmente per gli aspetti ambientali, quindi per la temperatura e per le caratteristiche della pista che, come dici tu, mettono la vettura alla prova sia sulla trazione in uscita di curva che sulle frenate, numerose e tutte molto forti. Chiaramente l'impianto frenante deve essere dimensionato per raffreddare i freni adeguatamente. Ecco, hai accennato le temperature e anche una gara notturna dall'anno scorso e questo fa sì che ci siano differenze anche notevoli di temperatura dell'asfalto fra le prove libere, la prima sessione e la gara delle prove che si svolge praticamente con l'oscurità. E cosa comporta questo dal punto di vista tecnico? L'aver programmato la gara più tardi rispetto agli anni precedenti, già dall'anno scorso, comporta sicuramente il fatto di perdere in qualità del risultato nella sessione di FP1 che di fatto viene eseguita, viene svolta a un orario differente da quello della qualifica e della gara. È comunque una sessione importante, permette di avere dati iniziali sulle bomme, sulla vettura e sull'assetto, però di fatto perde di qualità da punto di vista delle analisi termiche sulla vettura. Quella del Bari viene definita anche una pista di motore proprio per le sue caratteristiche di rettilineo, di velocità di punta, caratteristiche che lo scorso anno non furono molto favorevoli alla Ferrari e quest'anno forse presentano un aspetto diverso. Esattamente, quando parliamo di velocità e di carica del motore, possiamo parlare anche del contributo della parte ibrida sui rettilinei? Nella prima parte della stagione Barenia è sicuramente la pista che permette di mostrare maggiormente il potenziale della Power Unit, sia del motore a combustione che della parte ibrida. Chiaramente entrambi contribuiscono al risultato, quindi alla prestazione e alla velocità in rettilineo. Non dobbiamo dimenticare che la velocità in rettilineo, quindi la prestazione della vettura in questa parte della pista, è fortemente influenzata anche dal livello di carico e dal livello di drag della vettura. Siamo all'inizio della stagione, ogni volta andiamo in una pista nuova e dobbiamo scoprire quella che sarà la nostra prestazione, che di per sé non ha troppo valore assoluto ma è sempre relativo a quello che fanno gli altri. Sarà interessante vedere in una pista come questa, che come dicevo è diversa dalle altre, per il livello di contributo dato dalla Power Unit e per il livello di contributo dato dal drag, sarà interessante capire come la nostra vettura si comporterà in questa situazione. Correre nel deserto per tante persone significa sabbia in pista e quindi perdere di aderenza, è davvero così? Chiaramente la possibilità di avere sabbia in pista e quindi problemi di aderenza è molto legato al vento. Abbiamo visto in alcuni casi in passato che durante i test e anche in alcuni weekend di gara c'era molto vento, è una variabile da tenere sotto controllo, può avere un effetto importante.